Le questioni che riguardano la regione Lazio, noi sosteniamo l'azione della Polverini per cambiare regole, per garantire il massimo della trasparenza e credo che ciascuno debba fare la propria parte per agevolare un percorso che i cittadini giustamente esigono e quindi credo che tutto quello che avviene vada nella direzione di condannare tutti gli errori, i comportamenti errati, quelli che hanno rilevanza penale, poi sarà la magistratura a valutarli e garantire quel percorso che la Polverini ha proposto al Consiglio giorni fa. Grazie